Mi ringrazio tutti quei che hanno collaborato, del Rione Boera e anche tutti gli altri. In questi giorni, e anche nei giorni prima, non ho sentito nessun atti, forse qualche critica, verso queste due persone qua. Massimo Boso. E Correa Claudio. Che mi è partita di niente e mi è riuscita a mettere insieme tutti quanti. Aspettare un applauso. Bravi. L'ultima cosa che ho visto in questi giorni, e che a me ne sta visto tanto, è vedere delle persone disponibili, come gli arbitri, spesso magari criticare così. Non è facile venire a bada 200 persone che ha tutti la sua idea e cosa. Perciò mi farei un applauso anche ai giudici di gara che sono prestati. Grazie. 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 Grazie.